...significativo di trasformazione di una vecchia ferrovia, una ferrovia di 1800 ad un solo bilancio non elettrificata... Dottore, buonasera a tutti, sono catacchio dottore, sì dottore è urgente perché mia moglie ha avuto finalmente le cose, le voglie, le toglie appunto. E se stiamo qua dottore, è possibile? Grazie dottore, l'aspetto dottore. Sì, grazie dottore. ...significativo di trasformare questa ferrovia da Cesano... Scusate perché non c'è una voglia, ha molti dolori no? No, no, va bene, è qui, è qui... ...vengli anni successivi e quindi, si pone i cittadini hanno spero il vantaggio... Ciò catacchio, la luce! E non è che abbiamo dato la luce qua, quelle toglie... E questo trova che non è male, la vicina qua vediamo. Adesso spingi, 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 voilà, maschetto, è un bel maschetto signore, è stata brava, mi ha molto agitata. Adesso spingi, 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 un altro maschetto, è un bel 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 mas quale altri abbiamo che facevo? Non dico, dai. Ma tu vabbè? Non ti rum. Guarda, avvicini la luce. Avvicini la luce. Signore, respiro, eh? Spingi, 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 spingi. Ma... Ma... È vero, eh? Ma non sono tre, dottor, veramente, sono tre. Signore, tre gemelli. Non è stato... Male, guardi. È raro, tre gemelli, è raro. Tre gemelli. Bravi. Pesante, non chiede. È vincita. Avvicini la luce. Avvicini la luce? Vincita. Avvicina la luce, respira, spingi, 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 mamma di quattro, quattro incredibili, quattro gemelli, tutti maschietti, compratura, terribissime, forse ho capito, dottore, quella è la luce che li attira, la luce attira, hai capito?